Ben ritrovati in studio, dicevamo poc'anzi, la forme d'arte sono infinite, cresce anche a Bolzano tra i ragazzi la passione per i graffiti, il comune dunque ha deciso di mettere a disposizione spazi adeguati per restituire ai giovani la possibilità di dare libero sfogo alla fantasia. E' il muro sotto ponte Palermo a Bolzano la prima superficie autorizzata su cui l'amministrazione cittadina permetterà quest'anno la realizzazione di tanti coloratissimi graffiti, voluti anche e soprattutto dagli abitanti della zona e grazie al progetto Murarte. Valorizzare la creatività e combattere il degrado fisico di alcune parti del capoluogo migliora la percezione della città, dicono dal comune, e il numero degli appassionati di questo tipo di arte è in aumento. Questa è un'iniziativa che è stata promossa contemporaneamente dal comune di Bolzano e dall'associazione Volontarius ed è stata ripresa dopo anni in cui era ferma. Il progetto Murarte è nato con l'intento di riqualificare delle zone della città abbastanza degradate e comunque contemporaneamente dare degli spazi per i giovani o per gli artisti in generale per esprimersi e poter realizzare quelli che sono i loro progetti e sviluppare la loro arte. Dopo l'incontro tra l'assessore comunale alle politiche giovanili Mauro Randi e i sei giovani artisti del capoluogo incaricati del restyling, tutto è dunque ufficiale. Al via la missione di ridare vita grazie ad un tesserino e ad una lettera di autorizzazione a quello che era fino a poco fa ancora un grigio scorcio di architettura urbana, fatto di graffiti oramai rovinati e scoloriti. E i ragazzi dopo aver già ripulito il muro e steso una base azzurra sono ora pronti a dare libero sfogo alla fantasia. Sono contenta di questo progetto qua, Murarte, e sì, sono contenta che posso fare dei stencil qua. Questa iniziativa è importantissima perché così per noi giovani ci possiamo sviluppare nel mondo graffito anche qua a Bolzano. Un progetto, quello di Murarte, realizzato per la prima volta nel 1999 a Torino e che ha trovato in Bolzano la prima città partner per la costruzione di un vero e proprio network ricco di iniziative artistiche e culturali per i giovani. Seminari, eventi, scambi e concorsi in località sempre diverse come anche Orbassano, alle porte del capoluogo piemontese e Scandicci, vicino Firenze, anch'esse aderenti all'iniziativa. Avere spazi dove potersi esprimere senza uscire dalla legalità è importante, ha detto l'assessore Randi, e positivo è anche il fatto che sempre più adulti apprezzino questa forma espressiva.